Buongiorno ragazzi, oggi una nuova lezione sul terrazzo, sempre da casa. Un abbraccio, buon allenamento da Narita della Push Up. Grazie. Un abbraccio, buon allenamento da Narita della Push Up. Doppio, dietro, 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 doppio, doppio, quattro, tre, due, uno. Doppio, 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 doppio. Doppio, 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 singolo. Due, doppio, 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 drie, due, doppio, doppio. Egoce. 3, 2, 1. Egoce. 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 Adorme. Stringo. Egoce. Egoce. 4, 3, 2, 1, doppio, 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 ancora, singolo, vengo l'addome, veloce, ancora, 4, 3, 2, 1, e su, 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 4, 3, 2, veloce, ancora, 4, 3, 2, 1, su, lento, 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 e fuori, 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 veloce, vengo, 4, 3, 2, 1, lento, 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 veloce, 4, 3, 2, 1, e fuori, springo, springo, lento, veloce, sempre addominali obliqui, piccoli, 4, 3, 2, 1, e hop, 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 lento, veloce, ancora, springo, doppio, hop, dai, hop, veloce, hop, ancora, hop, 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 in alto, piccoli, hop, piccoli, hop, lento, hop, 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 veloce, hop, 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 rimango, doppio, rimango, doppio, rimango, qui, pum, doi, cambio, su, cambio, su, cambio, su, cambio, su, cambio, su, cambio, su, cambio, controlledale, Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. C'è. Sì. possiamo spegnere la musica Bene, oggi ragazzi abbiamo fatto un mini allenamento che potete utilizzare a fine delle altre lezioni cardio o solamente questo in base al tempo che avete a disposizione era incentrato soprattutto sugli addominali obliqui da in piedi, una piccola parte eterna ma proprio piccola piccola quindi continuate a seguirci, la musica era gentilmente offerta dai Pancake, da Neve e Chiara quindi grazie anche a loro, grazie dalla Bull Shop